Buongiorno, buongiorno signorina. Il signor Rossi? Praticamente. Sì, sì, certo. Lei mi ha presentato domanda per un posto da ragionario, no? Sì. Finita in lei di contabilità? È la mia vita. Bene. Non solo a procedura è questa. Prima di discutere con i figli di scambiare, andiamo a sottoporre alcune dalle per stabilire le sue reazioni psicologiche. Benissimo, di assieme. No, per carità. Bellissimo, piena, credo. Si rilassi, non pensi a nulla. A nulla? Si rilassi consensamente. Si rilassi, rilassato. Sì. Sì. Il medico di autismo è citabile. No, non rilassi sicamente. Ecco, io... Non ha mai credito il tanto. Ecco, vuole chiamare esattamente spiegato. Qualsiasi cosa di cui il pubblico tu senti? Senti, io, cose di cui ti senti. Ecco, dipende da ciò che lei serve del tempo. Vuole dire quando lei dice il stesso. Le donne non contattano? Donne. Uomini. Uomini. Ecco, stavo per rispondere delle donne. Mi sento concettato? Concettato. Dalle donne. Uomini. Ultimo momento, io devo dare due risposte preparate. Vuole che... Dopo un'attività di lavoro, che mantiva in campo, io ritardino, ritardino, e buonissimo, e io mi senti la parola. Dico, in capacità di concentrarmi, in capacità di mangiare, in capacità di dormire, in capacità di fare in genere, in capacità di fare in genere. Lo storioso. Sensore, in calore, pieno di maniera, pieno di energie, pieno di maniera, buonato, buonato, buonato di energie, e di paura di voglia. Ecco, è difficile dire. Anzi, potenzione. Ecco, ho cercato un certo indirettante. So, perché ti serve di apatia, di rabbia, di... di forfora? Beh... Hai vettile? Un'arrivo? È vettile. Sì, sì, non so, non mi faccio un mistero. Hai sempre stato vettile? Credo di sì. Da quando è nato? Sì. Credo di sì. Ha paura di donne. Le loro abiti, delle loro scarpe, delle loro voci, delle loro... Ha 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 ha! Le loro piacere, delle loro mano di sedersi, delle loro mano di parlare, delle loro bocche e maniche, delle loro piacere, delle loro gocce, delle loro piacere, ma di legno, no? Beh, dipende da quello che vuole dire. Tante grazie, signor Rossi, guardare, le faremo stagione. Grazie a tutti.